La pallavolo può essere paragonata all'amicizia, se si è divisi si è destinati a fallire, solamente se si uniti si vince. La pallavolo I propri compagni diventano una seconda famiglia, le persone che si incontrano diventano parte di noi. I propri compagni diventano una seconda famiglia. Lavorare insieme significa vincere insieme. Ritrovarsi insieme è un inizio. Restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. Non ho mai pensato di essere il migliore, facevo solo parte di una squadra straordinaria. Lavorare insieme è un progresso. Lavorare insieme è un progresso.